Circa due ore, tanto è durato l'incontro voluto da Mario Somma per spiegare a tifoseria e stampa le ragioni dell'addio alla salernitana. Un esonero dal punto di vista sportivo ha precisato il tecnico supportato dal suo legale, servito gli da Fabiani domenica pomeriggio in un faccia a faccia svoltosi a Latina a casa di Somma. Nella forma però si tratta di risoluzione consensuale, Somma, che ha iniziato l'incontro facendo le condoglianze al fraterno amico Matteo Mancuso, colpito da un grave lutto familiare, ha confermato di aver rinunciato agli emolumenti maturati. Avevo accettato un compenso di 30.000 euro solo per coronare il sogno di allenare la salernitana, detto, dal momento che professionalmente valgo molto di più, questi soldi non li voglio. Emozionato, carico torrenziale nel suo eloquio, il tecnico ha fornito la sua versione dei fatti, ripercorrendo le tappe del suo mese da allenatore della salernitana. Dal cambio della sede del ritiro alle difficoltà incontrate quotidianamente per l'eseguità della Rosa e la mancanza alternativa in certi ruoli, Somma ha accusato Fabiani di essere stato il regista del suo esonero. Assolta la società, assolti i calciatori, anche se qualche frizione col gruppo c'è stata ed anche il tecnico non ha negato che alcuni episodi riportati dalle croniche di questi giorni siano realmente accaduti. Somma ha raccontato alcuni retroscena, affermando di aver convinto Cacia ad accettare Salerno. La trattativa però non si è conclusa, ai tifosi che chiedevano se la società avesse indugiato per ragioni economiche, ha detto che il budget stanziato dai patron era sostanzioso, anche per quanto riguarda Ciani. Somma ha detto che Lottito aveva sbloccato la situazione, ma l'albanese ad oggi è più vicino al Varese. Insomma, società e squadra assolti, Fabiani, neanche tanto velatamente, è stato indicato dal trainer Pontino come la persona che, dopo averlo scelto, gli ha voltato le spalle. Ai tifosi il tecnico ha detto che seguirà con immutato amore la salveritana e che sottoscriverà l'abbonamento, invitandoli a fare altrettanto. In molti però hanno intenzione di disertare lo stadio, due ore per spiegare, ma la domanda è rimasta senza risposta, perché Fabiani abbia deciso di esonerarlo e perché Lottito, abituato a decidere in prima versione, gli abbia dedicato solo due minuti di tempo al telefono prima di avallare questa decisione. In attesa di una lepica della società e di Fabiani, Somma ha salutato Salerno, mostrando con orgoglio la maglia granata indossata nella stagione della promozione. Avrebbe voluto fare il bis da tecnico, ma la storia ha preso una piega diversa. I tifosi si sono schierati massicciamente dalla sua parte. Come sempre, il tempo, da Gallantuomo qual è, aiuterà a fare chiarezza su tanti punti che restano scuri.